Il RICS, lo dice il nome stesso, rappresenta un corso di laurea magistrale che collega le relazioni internazionali e la cooperazione allo sviluppo. Rappresenta dunque un corso ibrido che vuole formare dei professionisti capaci di operare sia nei settori più classici delle relazioni internazionali, della diplomazia, ma anche soggetti nuovi, soggetti che sappiano comprendere dinamiche transnazionali diverse, quelle che hanno a che fare col mondo del terzo settore, delle organizzazioni internazionali, governative e non governative, con tutta una serie di reti che includono anche le aziende che offrono percorsi professionali di grande interesse per i nostri laureati. Ecco, il RICS rappresenta una realtà fortemente radicata nella città di Perugia e alla stranieri voi potrete trovare non solo un ambiente locale accogliente, ma anche un luogo già internazionale. Prima di andare all'estero, e tutti i laureati RICS hanno avuto un'esperienza estera, avrete la possibilità di sperimentare un percorso di interazione con soggetti provenienti da diverse parti del mondo e questo arricchirà fin da subito il vostro percorso di studi e, ci auguriamo, il vostro percorso professionale. Vi aspettiamo a RICS!